Sinceramente non me l'aspettavo perché alla fine sono in gruppo da poche settimane e quindi non è stato semplice ritornare ai ritmi partita e anche le misure del campo, tutte queste cose. Diciamo che alla fine sono contento, sono veramente felice, ero un po' teso prima la partita perché ovviamente era inaspettato quindi l'ho dovuta digerire in poche ore, però è stata una buona prestazione, peccato perché magari nel finale potevamo portarlo a casa. Tra l'altro un rientro con un cliente non tanto facile, Duric, che al di là del gol, poi abbastanza casuale, si è riuscito a contenere decisamente bene. No, sapevo che non era di certo il miglior cliente, però sapevo le sue caratteristiche e questo pomeriggio dovevo mettermela via per quanto riguardava i palloni alti perché sapevo che era difficile anticiparlo o comunque colpirla sopra di lui, però dai, è stato, diciamo, sono dovuto essere sempre concentrato e alla fine l'abbiamo, a parte il gol, sì, l'abbiamo arginato abbastanza bene. Hai detto che è stato un po' inaspettato di trovarti in campo tra titolari, come hai accolto la convocazione del mister quando ti ha detto vai in campo, sei nell'11 titolare? Eh, diciamo che ho sentito il cuore battere forte, poi ho provato a dormire prima partita ma non sono riuscito e allora mi sono messo anche a guardare qualche movimento della Salernitana, giusto per, insomma, non farmi trovare impreparato. Però io alla fine quando mi scaldo, quando entro in campo, poi passo, è prima che magari gioco un'altra partita, però poi in campo mi concentro su quello che devo fare. Quanto è stato importante il gruppo, ritrovare il gruppo, i amici del Pisa, della squadra nera azzurra, per riprendere il ritmo partita e per ritornare quello che eri prima dell'infortuna? No, no, importantissimo, devo dire che è un bellissimo gruppo e mi era mancato, anche perché sono stato, ho fatto la riabilitazione via e sono tornato giusto per riprendere gli allenamenti collettivi e devo dire che hanno saputo darmi quella parola in più, magari tranquillo, ci sta l'errore, devi solo trovare la confidenza col tempo e alla fine devo dire che è soprattutto merito loro anche per la serenità che può darmi in campo. E Marco Vernier che Pisa ha ritrovato dopo tanto tempo? Beh, squadra fortissima secondo me, potenzialmente no, è tanta roba. E comunque ho trovato dei compagni allenati, si vede che hanno lavorato nel periodo di quarantena e niente, questo finale stagione è importantissimo sia per il Pisa che per me, per tutti e dobbiamo cercare di concentrarci e trovare la salvezza il prima possibile per poi magari non si sa se viene qualcosa in più. Ecco, la partita di oggi, un pareggio secondo te giusto o forse il Pisa avendo avuto più occasioni meritava qualcosina di più? Diciamo che siamo venuti fuori alla distanza e il primo tempo è stata partita combattuta diciamo e loro hanno trovato un gol abbastanza casuale magari in una ripartenza però il secondo tempo potevamo segnare il gol della vittoria e c'è un po' di rammarico però siamo comunque consapevoli che un punto in un campo difficile come è Salerno ce lo portiamo a casa a volentieri. Grazie a tutti!